Spettacoli di teatro, mostre d'arte, proiezioni cinematografiche anche al di fuori di Pavia a prezzi contenuti e con un servizio di navetta gratuito. È Students Arts Box, l'iniziativa del Dipartimento di Studi Umanistici rivolta a tutti gli studenti dell'Università di Pavia. Parole d'ordine, curiosità e condivisione. Uno dei punti fondamentali è proprio questo, far sì che l'evento culturale sia questo un film, piuttosto che uno spettacolo teatrale, piuttosto che una mostra, non si riducano solo alla fruizione dell'evento, ma diventino uno strumento affinché gli studenti possano vivere un'esperienza insieme. Per tenersi aggiornati sul calendario degli appuntamenti e prenotarsi agli eventi, digitate sab.unipv.it